A Palagonia oggi è stato il giorno dell'addio ai coniugi Vincenzo Solano e Mercedes Ibanez uccisi nella loro villetta durante una violenta rapina per cui è stato fermato un ivoriano. Le bare sono state trasportate verso la chiesa di San Giuseppe nel comune del Catanese dove si sono svolti i funerali a scortarle alcune centinaia di persone.